In vista delle prossime elezioni europee, Legambiente ha organizzato un incontro con i candidati al Parlamento europeo e i rappresentanti delle forze politiche. L'incontro pubblico del tema Un nuovo Green Deal per l'Europa vuole essere un momento di partecipazione democratica per attivare un confronto con i candidati dei partiti per le elezioni dell'8 e 9 giugno. Silvia Tauro, Presidente Legambiente Abruzzo. Questa nuova Europa dovrà accompagnare la prossima legislatura una giusta transizione che sia anche accompagnata da un nuovo contratto sociale all'interno dell'Europa. Quello che è fondamentale è che si sceglie un piano di riforme e di investimenti che sostengano un'economia non solo decarbonizzata, ma anche inclusiva, resiliente rispetto al cambiamento climatico e competitiva. E per fare questo è fondamentale sostenere in prima battuta tutte quelle imprese che si impegneranno seriamente nel rispetto di rigorosi standard non solo ambientali ma anche sociali. Per fare questo è fondamentale quindi ridefinire intanto le politiche di bilancio appunto dell'Unione europea che verrà, a partire ad esempio dalla revisione delle politiche agricole di coesione che da sole rappresentano il 63% dei mille miliardi di investimento che sono attualmente previsti dal quadro di pianificazione finanziaria.